Ho una sfida per te, ascolta attentamente fino alla fine. Ora vestiti e vai in un supermercato a tua scelta. Oppure se non riesci a uscire in questo momento, chiudi gli occhi e immaginati di essere in un supermercato e fai questo. Guarda cosa fa una persona quando arriva alla cassa. Senti il rumore dei prodotti che passano sullo scanner. Ecco, in questo momento la cassiera gli chiede di effettuare il pagamento e la persona effettua il pagamento per quello che ha acquistato. Subito dopo un'altra persona si avvicina alla cassa e succede lo stesso procedimento. I prodotti passano sopra lo scanner e si effettua il pagamento. Questo succede per tutte le persone all'interno del supermercato da quando apre finché chiude. Alcuni pagano 10 euro, altri pagano 50 euro, altri 100 euro. Insomma, ognuno in base a quello che ha acquistato. Adesso immaginati che su ogni transazione che hai visto prima guadagni l'1%. Pensa quanti soldi ti entrano nel conto grazie a tutti questi acquisti che si effettuano ogni giorno in giro per il mondo. Adesso apri lentamente gli occhi e ascoltami attentamente. Tutto quello che hai visto e hai sentito prima esiste già. Ma se non lo stai già facendo vuol dire che nessuno te l'ha detto come puoi farlo. Io possiedo queste informazioni e ti posso aiutare gratuitamente a creare un'entrata passiva che si basa su tutti gli acquisti giornalieri globali. Non perdere questa opportunità unica di creare un'entrata passiva. Commenta ora questo video con la parola io e gli inviami questo video in privato. In questo modo potrò risponderti e mostrarti esattamente come fare. Grazie. Grazie.